Eccoci, benvenuti a Didacta, qui con APAS, io sono Tiziana Mercurio, rappresento APAS Certificazioni Informatiche e Orizzonte Scuola, un nostro meraviglioso partner che ha creduto nel progetto. Insieme rilasciamo le certificazioni informatiche per i docenti e per i ragazzi della scuola italiana. D'annesso certe spiegazioni si acquisiscono sulla piattaforma telematica di Dasco, la piattaforma di proprietà nostra, mi piace sempre ricordarlo perché essendo la piattaforma di proprietà tutti i dati che trastano, quindi anche i vostri dati personali sono completamente protetti e li trattiamo soltanto noi. Quindi attraverso la piattaforma potrete acquisire tutte le competenze che vi servono per affrontare poi l'esame di certificazione e conseguire il titolo APAS. Chiamate Orizzonte Scuola, iscrivetevi e raggiungete il vostro obiettivo.